Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò e vi mostrerò dove trovare la runa nel livello Tempio del Deserto in Minecraft Dungeon. Per prima cosa finite il gioco, ovviamente. Dopodiché, una volta che avete raggiunto questa zona dove dovete recuperare la chiave d'oro, proseguite qui e interagite con questo pulsantino nascosto. Come potete vedere sbloccherete l'accesso alla runa che potrete recuperare come sempre. Quindi regatevi qui, interagite con questo pulsantino e nel giro di pochi secondi la runa è vostra.